Li conoscete tutti? Del signor Francesco Rombolà, giganti del 1954. Loro nascono per tradizione e passione. Chi non se ne ricorda? Novità con l'organetto. 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 I giganti del signor Rombolà Francesco, i giganti storici del 1954. Coppia. Facciamo passare i giganti del signor Rombolà? Loro sono la coppia numero 7. Matà e Grifone arrivano da Messiano, Diangelo Monteleone, gruppo nato nel 2000. Anche loro naturalmente per passione. Un applauso. Novità con l'organetto. Novità con l'organetto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.